E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei due mesi di galera, così ti impari. E che impara? E' uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto ieri. Ah, te l'aveva detto. Allora quattro mesi. Lo perdoni, eccellenza. Tutti quanti gli altri in galera. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Direi che l'intro riassume perfettamente il tutto. Posso anche non fare la puntata. A parte di scherzi, oggi vedremo insieme un veloce recap e poi perché Bitcoin è così dipendente. Un po' come qualsiasi asset globale dagli Stati Uniti, dagli eventi negli Stati Uniti. Vedrete che non c'è niente di complottista. Ma prima di tutto, un buon tornato a tutti i suoi cicli tovalute. Ho messo anche la maglia davvero patriota. Oggi anche schermo verde. Ho dovuto per delle commissioni tornare un attimo a casa, quindi ne approfitto per gestare un po' di puntate. Brevemente, cosa è successo negli ultimi giorni? Siamo in giornate in cui i volumi non sono alti, ma sono in media con quelli degli ultimi mesi. Quindi bassi, ma nella norma di questo non interesse verso il Bitcoin e le criptovalute. I volumi e Wall Street anche sono più bassi rispetto al solito, però abbiamo avuto questo bellissimo recupero. Bellissimo recupero che è causato da buoni dati sull'inflazione, che continua a scendere leggermente e sull'occupazione che ha tenuto. Non c'è stato nessun crollo dell'occupazione e quindi questa paura improvvisa e irrazionale di una recessione imminente, sapete cosa ne penso io del 2025, ma in questo preciso momento non c'erano segnali di crash gravi da parte dell'economia, come è arrivata in maniera illogica, è andata via in maniera illogica. Ora siamo in questa zona da tenere d'occhio per vedere un po' cosa succede nei prossimi giorni. E a seguito di questo bel movimento, anche il Bitcoin è tornato dove era il primo agosto, quindi tra 68 e 70 mila dollari. 58. Cazzo di Shikcoin! Surgare al mondo la mia indignazione! Scherzi a parte, il Bitcoin continua a essere molto più debole dell'azionario americano, ormai da mesi, 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 ATH su ATH di là, non ATH su non ATH di qua. Il perché ve l'ho già spiegato, mi fece anche la puntata, qua, sì, verso maggio, quando eravamo in quest'area che ci sono tutti gli astri, vi ricordate, allineati, non riuscivamo a passare i massimi e mi venne il dubbio che con un macro del genere è il Bitcoin che comunque visto dai più, ma anche giustamente, come un asset altamente volatilo, speculativo e rischioso, non ci fosse questo interesse andare su simili asset. Il resto è storia e sta dimostrando ciò. Volumi estremamente esigui nel mercato, interesse? Nullo. Nel mercato è il Bitcoin che non solo ora fatica ad andare in ATH, ma fatica a tenere i 60 mila. Non parliamo dei 70 mila. Niente di così strano per chi segue questo canale. Nell'ultima puntata vi ho anche dato un po' la mia idea di un possibile salita finale, magari sotto le elezioni, vedremo se riusciremo ad arrivare in quell'area intorno agli 80 mila dollari o almeno ripassare i massimi. Dopodiché sul 2025 mi pronuncio a fine anno, ma al momento io per il 2025 sono estremamente bear, perché? Perché sono bear sull'azionario americano. Andovi sul settimanale, raggiungiamo lo Standard & Poor's, ce l'avete qua in giallo. Cosa succede? Mediamente, guardiamo nei periodi di storia recente, Standard & Poor's va a moon, Bitcoin va a moon, Standard & Poor's va giù, Bitcoin va giù. Ovviamente questo non accade tutti i singoli giorni, ma sul settimanale, andate di nuovo a vedere il grafico, quando ci sono cali interessanti sul settimanale, su Standard & Poor's, Bitcoin è praticamente certo che segue al 99% Abbiamo avuto un'eccezione nel calo dell'ottobre del 2023, dove Bitcoin non ha seguito, andando magari a testare i 20 mila, per il semplice motivo che BlackRock ci disse che l'ETF spot ormai era cosa fatta, quindi è partita la FOMO pre-ETF. Poi dopo abbiamo di nuovo seguito piuttosto bene qualsiasi calo dello Standard & Poor's. Metto lo Standard & Poor's come riferimento, perché è il principale di Wall Street. In Bear Market cosa succede? Che spesso Standard & Poor's sale magari va a fare i massimi e Bitcoin non segue up, ma quando sale lo Standard & Poor's tendenzialmente, se non ci sono notizie particolari, il Bitcoin rimane flat o cala poco. Quando invece Standard & Poor's cala, in un Bear Market il Bitcoin cala male. Quando invece siamo all'interno di un bull market, quando ci sono i cali dello Standard & Poor's, Bitcoin tende a rimanere flat o fare dei leggeri cali, e quando Standard & Poor's va up, Bitcoin va su in modo aggressivo. Infatti adesso che siamo ancora in un bull market, dopo marzo, quando Standard & Poor's tende a salire, Bitcoin tende a salire, quando Standard & Poor's cala, Bitcoin cala, quando Standard & Poor's risale, siamo ancora in bull market. Credo di sì. Sul Bravissimo, bene la borsa americana che sta respirando, allora vedremo se il Bitcoin gli riesce ad andare parzialmente dietro. Finché non vediamo la chiusura, so per 63.000, se volete essere più tranquilli, 64.200, 64.500, rimaniamo nel nuovo range che è tra i 62, più o meno, e non dico il minimo assoluto, ma l'area intorno ai 52. Quindi potremo continuare a rangiare quest'area. Ma come mai Bitcoin, come altri asset, tende a seguire così tanto il mercato americano? E il Bitcoin ormai è praticamente il mercato americano, nel senso che tutti avete imparato a guardare bene l'uscita dei CPI, dati della disoccupazione, cosa succede all'interno dello Stato, come movimenti elettorali, e così via. E da qua la nostra dipendenza. Questa dipendenza è un chiaro segnale del cambiamento climatico! Oh, datemi una clava! Nel 2024 il top GDP tra i 15 Stati più ricchi abbiamo in testa ovviamente gli Stati Uniti, con 25,43 trilioni, segue la Cina a 14,72, cioè praticamente la doppia, poi c'è il Giappone a 4, la Germania a 3,8, è già finito. Gli Stati Uniti sono lo Stato più ricco al mondo, con la spesa per la democrazia, non so perché non si sono aperte le varie bandiere, più alta al mondo. Questa è la spesa per la gestione della democrazia, spesa militare intendo, che negli Stati Uniti è di 916 bilion, in Cina che segue 296. Poi abbiamo la Russia a 109, abbiamo anche l'Italia che spende forte, 83,6, però capite che rispetto agli Stati Uniti non si spende niente. Dopodiché, stock market, lo stock market degli Stati Uniti è 46,2 trilioni, vale il 42,5% dello stock market globale. Segue quello europeo a 12,1%, quello cinese a 11,5%, che probabilmente nei prossimi anni sorpasserà quello europeo. E voi capite che su una torta alla 108,6% di stock market, se gli Stati Uniti mi vanno a muovere il 46,2 trilioni, più i dati che abbiamo appena visto. siamo tutti USA dipendenti, Bitcoin in primis, con la sua scorreggia di mercato, con una totta market cap da 2,3 trilioni in questo momento e un massimo di 2,7. In sintesi, siamo meno del Canada. Meno del Canada. Quasi come l'Australia, poco di più. Che vergogna! E per concludere, ci tengono per le palle anche dal lato mining, che il 37,84% del mining globale è made in USA. E questo è il perché è normalissimo, non ci vedo nulla di strano e credo che sarà così ancora per molti anni, anche se l'America è in declino e io sono uno dei sostenitori sul declino degli Stati Uniti, come potenza globale. Uno, perché ha una popolazione, ma questo già storicamente che nella media è una banda di cretini. Due, perché sta diventando troppo tendente al socialismo, fancazzismo, mentre l'Asia è molto più aggressivo, quindi secondo me l'Asia andrà a prendersi buona fetta della ricchezza globale e anche del potere globale. Importeranno la democrazia? No, loro importano l'autocrazia o qualcosa di simile. Però poco importa, tanto sono sempre quattro che comandano. Ma, dato che noi dobbiamo vivere nel presente, non ci interessa il futuro, al momento, per i prossimi anni, tranquillamente, abbiamo gli Stati Uniti che continueranno con il loro mercato, avete visto quanto è grosso, il loro mercato azionario, la loro economia, avete visto quanto è grossa, il loro potere globale, avete visto quanto spendono per gli armamenti, a influenzare il mondo. E Bitcoin gli andrà dietro e perciò Bitcoin, che è una piccola nicchia del mercato globale, tra virgolette, mercato speculativo di nicchia. No, il Bitcoin è come loro! Assolutamente sì! Infatti, guarda questo, dove cazzo sta? Questo è un bel grafico. Guardate che bel grafico mon. È quello che dovevamo avere su Bitcoin, tendenzialmente. Questo è proprio bello, cavolo. Prima di essere interrotto, stavo dicendo, è normalissimo che Bitcoin segua e seguirà gli andamenti della borsa americana e seguirà gli umori e tutte le vicende di questo Stato. Dalla nostra però abbiamo che ora BlackRock è entrato nel Bitcoin, quindi tendenzialmente dovrebbero andarci a speculare up anche magari nel medio periodo e questo mi tiene positivo, almeno per il periodo elettorale. Vedremo se ci daranno questa mano con un push finale all'interno di questo 2024. Un saluto e alla prossima da Alberto.